In questa domenica il Signore ci esorta ad aprire i nostri cuori e le nostre orecchie affinché possiamo metterci realmente in ascolto della Sua parola. Per la verità, sin da quando siamo stati battezzati, siamo venuti a conoscenza di questo, questa necessità di lasciarci toccare dalla grazia. Quando il sacerdote sfiorò la nostra bocca, le nostre orecchie e ci disse proprio attingendo a questo Vangelo di questa domenica, il Vangelo di Marco, è fatà, apriti. È così che Gesù si rivolge al sordo muto in piena decapoli, quindi in mezzo a tanta gente, in mezzo a un popolo pagano, compie questo miracolo, ma senza strepito. Lo prende in disparte, l'Evangelista annota, lo prese in disparte e compì quel gesto umile del toccare la sua bocca, ecco la saliva, ecco i suoi occhi, perché comunque questa persona si sentisse amata di più, avvertisse la presenza di Dio, il tocco di Dio, Dio che gli apre il cuore, gli apre la mente. Non è che si trattava di un sordo muto, meglio di un balbuziente, l'Evangelista annota anche questo, parlava, no? Ma forse ecco non parlava bene, era necessario che parlasse bene, così come è necessario per noi spiritualmente che parliamo bene, parliamo bene di Dio, parliamo bene anche tra noi, tante volte una parola può uccidere l'altro. Le parole che dobbiamo usare devono essere parole meditate, parole che scaturiscono dall'ascolto, ascoltare, obaudire, obbedire, l'etimologia della parola obbedire non è mettersi in atteggiamento passivo di Dio, no? Dell'ascolto della parola di Dio, piuttosto significa letteralmente, e Don Trino Bello ce lo ricordava spesso, obaudire significa obbedire di fronte, stando di fronte, obbedire, cioè ascoltare stando di fronte all'altro, il che significa che c'è una partecipazione, una compartecipazione, è il desiderio di fare propria quella parola, non subirla, ma farla propria, per compiere poi la volontà di Dio. Ascoltare la parola di Dio, lo scema Israele, ascolta Israele, la prima attività da compiere è ascoltare, beh, dobbiamo dire che oggi si ascolta poco, si parla troppo, no? E anche si parla male, come dicevo. Ascoltare, mettersi in ascolto, in ascolto di Dio che parla al nostro cuore. Maria ha ascoltato, ha meditato nel suo cuore, ha fatto sua la parola, come diceva Don Trino Bello, Maria era la discepola del verbo perché si mise in ascolto della parola e la conservò per sempre nel cuore. Anche noi saremmo chiamati a questa, conservare nel cuore la parola di Dio così che ogni nostra azione, ogni nostra parola, ogni nostra scelta possa attingere a questa riserva, a questo tesoro nascosto nel cuore che è la parola di Dio che ci salva. Buona domenica! Buona domenica! Buona domenica!